Quando mi riferisco a procedure semisetcentesche, mi riferisco soprattutto al complicato sistema di elezione del Presidente degli Stati Uniti, che è un sistema concepito alle origini appunto settecentesche della Repubblica per confermarne il carattere federale. Un sistema in cui il voto popolare nazionale non conta niente e invece bisogna vincere i grandi elettori, Stato per Stato. Mi riferisco anche, credo, ai tempi di queste procedure, per cui una volta che i grandi elettori statali sono stati eletti devono riunirsi, Stato per Stato, in certi luoghi, in certe date, settimane dopo Election Day e così via. Per cui i tempi per conoscere ufficialmente il nome del Presidente eletto sono lunghi, lenti, sembrano antiquati, incompatibili con la velocità moderna a cui siamo abituati e infatti i media hanno adottato la soluzione di proclamare il Presidente la notte stessa delle elezioni sulla base di proiezioni di dati incompleti, che è una finzione mediatica, ovviamente, che in genere ha funzionato, ovviamente, ma non è detto che funzioni sempre. D'altra parte, la dimensione federale del governo è la caratteristica principale che spiega i modi in cui si vota nel Paese. Non esiste un sistema elettorale nazionale, ogni Stato fa per sé, ogni Stato definisce le procedure e le tecnologie di accesso al voto, nell'ambito di alcuni generali standard nazionali. Per cui ci sono differenze fra Stato e Stato, come quando iscriversi nelle liste elettorali, come quando votare, quando votare anche. In alcuni Stati si può cominciare a votare ai seggi prima di Election Day, in alcuni Stati lo si sta già facendo ora, ci sono già le file davanti ai seggi. Se e come sia possibile votare per posta, se sia necessario o meno mostrare un documento di identità con fotografia al seggio. Sono tutte questioni rilevanti anche da un punto di vista politico e partitico. Si pensa che criteri più generosi favoriscano i democratici, che criteri più rigorosi favoriscano i repubblicani e quindi ci sono lotte politiche, Stato per Stato, per definirli questi criteri. Lotte anche molto aspre. Nuove tecnologie, voto elettronico, possibilità di usarlo. Se si intende il voto espresso tramite voting machines elettroniche nei seggi elettorali, dentro i seggi elettorali, è un sistema che esiste e che è adottato in alcuni luoghi. Se invece si intende il voto da remoto, come credo intenda la domanda, diciamo dal computer di casa, da un luogo privato insomma, se ne è discusso ma non se ne è fatto niente per molti motivi. Credo soprattutto per due motivi. È un sistema poco sicuro, è esposto a forme di interferenza elettronica, di manipolazione, di hackeraggio. È anche un sistema che tendenzialmente può negare il carattere segreto e protetto del voto, perché se votate da un luogo privato siete esposti a influenze personali, familiari, di altro tipo. Quest'ultimo in effetti è un rischio che esiste anche nel voto per posta. Visto che siete chiamati a compilare la scheda cartacea, dove volete voi, a casa vostra. Condizioni che non garantiscono la segretezza della cabina elettorale, garantita dallo Stato. Comunque sì, il voto per posta è l'unica alternativa al voto in presenza ai seggi. Il voto postale è vecchio perché è in uso da decenni, ma è anche nuovo perché il suo uso si è esteso enormemente e ha cambiato natura in qualche modo. All'inizio votava solo chi avesse un valido motivo. Assenza da casa, per lavoro, magari all'estero, una malattia. Ora in molti Stati non è più necessario avere una scusa per chiedere la scheda postale. Chiunque può farlo e moltissimi lo fanno. In 5 o 6 Stati, Colorado, Oregon, Hawaii, altri due o tre, si può votare solo così, solo per posta, per tutte le elezioni, federali, nazionali, statali, locali e così via. Alle elezioni presidenziali del 2016 ha votato prima di Election Day, quindi in vari modi anche per posta, il 40% degli elettori americani. Quest'anno, per i noti motivi, la percentuale potrebbe essere superiore. Cosa si può prevedere per novembre, soprattutto per l'impatto del voto postale, che si prevede appunto molto elevato? Beh, si può prevedere tempi più lunghi nel conteggio, soprattutto dei voti presidenziali, a causa appunto dei tanti voti per posta, che in genere, nei vari Stati, dipende dalle leggi locali, devono essere conteggiati dopo la chiusura dei seggi, quindi nelle ore o nei giorni successivi. Qualcuno dice, attenzione, Election Day, o meglio, Election Night, in questo caso, durerà una settimana, addirittura settimane al plurale. Che non sarebbe un grosso problema se questa fosse una stagione politica normale, ma non lo è. C'è chi teme una crisi istituzionale con passaggi sgradevoli e sbocchi imprevedibili o addirittura pericolosi, punto interrogativo. Un caso estremo che serve a esemplificare questi problemi è questo. Si pensa che i democratici siano più inclini a usare il voto per posta, i repubblicani quello in persona. Che cosa succede se i conteggi dei voti in presenza la notte delle elezioni indicano una prevalenza di Donald Trump nel collegio elettorale, mentre i conteggi definitivi dei voti per posta rovesciano il risultato e assegnano l'elezione, sempre nel collegio elettorale, magari per un pelo, a Joe Biden. Che cosa succede nell'intervallo fra i due eventi, nell'attesa del secondo evento? Se per esempio Trump dichiara subito vittoria, come si usa fare la notte delle elezioni? E aggiunge che ogni ulteriore conteggio è truffaldino, un modo dei democratici di rubare le elezioni. La grande truffa del voto postale è già ora un suo cavallo di battaglia, un modo di mettere le mani avanti, punto interrogativo? Questa è una domanda maliziosa, naturalmente. Il sistema costituzionale ha i modi e le procedure per sbrogliare la matassa, ma certo ci sarebbero ore e giorni di tensione dentro le istituzioni, nei tribunali, magari anche in strada, nelle piazze. Il famoso pasticcio delle elezioni del 2000, in Florida se vi ricordate, potrebbe ben diventare un modello che si ripete e moltiplica e al confronto quello della Florida sembrerebbe una tranquilla disputa fra gentiluomini, cosa che non fu neanche allora.